Io rappresento appunto Ecologos, cadente di ricerca che ha seguito l'iniziativa per il Comune e per la Regine Lazio. Il progetto si chiama Progetto di Lucimballi, come dice la parola stessa, ha la finalità di ridurre i rifiuti. Questa è una delle tante iniziative previste, diciamo che è forse quella che dà un maggiore risultato anche di questo quantitativo, perché ogni giorno chi beve la sua imbottigliata, con tutti i limiti anche indicati prima dalla dottoressa, produce molti rifiuti. Voi potrete vedere come sta andando la fontana andando sul sito internet del progetto. Il Comune avrà la sua pagina dedicata e quindi vedrete quanta plastica mensilmente si risparmia grazie all'iniziativa. È un modo per avere un progetto trasparente, come la comunità europea giustamente ci consiglia e noi ovviamente supportiamo e sosteniamo questo tipo di approccio. Quindi mandate sul sito, dateci anche consigli, suggerimenti, nuove idee, perché l'idea ovviamente è quella di continuare a aiutare anche il Comune in questa lotta per la rifiutazione dei rifiuti alla fonte. Quindi ancora un grazie e grazie anche per l'ottima collaborazione, abbiamo lavorato molto bene.